Roma, operazione antidroga dei carabinieri. 6 gli arresti. 23 gennaio 2012, dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del gruppo di Ostia stanno eseguendo una vasta operazione antidroga nell'area di Ostia Nuova. 6 le persone arrestate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta del PM dottor Francesco Minisci, che ha coordinato le indagini. Sono più di 30 le perquisizioni tuttora in corso che i carabinieri stanno operando nei palazzi di Piazza Gasparri, a carico di numerosi soggetti, vecchie conoscenze delle forze dell'ordine. Gli odierni arrestati sono ritenuti responsabili in concorso di spaccio e detenzione illecita di stupefacenti tipo cocaina, ascisce e marijuana. L'operazione denominata Piazza Pulita è la conclusione di una più ampia attività di indagine, durata oltre 11 mesi, nel corso della quale i carabinieri del nucleo investigativo di Ostia hanno già arrestato 14 persone in flagranza di reato, recuperando complessivamente 5 kg di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'indagine è stata accertata la disponibilità per due arrestati di una potente pistola Smith & Wesson, calibro 144 Magnum, che è stata sequestrata. Nell'attività sono stati documentate inoltre centinaia di episodi di spaccio di singole dosi di stupefacente che gli indagati occultavano nei giardini pubblici di Piazza Gasparri ad Ostia o in bocca per non farsi scoprire dai carabinieri. Nel corso dell'operazione è stato anche arrestato un soggetto già noto alle forze dell'ordine che alla vista dei carabinieri si è disfatto di un fucile a canne e mozze. L'attività investigativa è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Ostia nel medesimo contesto ambientale criminale in cui è maturato il duplice omicidio di Giovanni Galleoni e Francesco Antonini, avvenuto ad Ostia il 22 novembre 2011. Tra i destinatari del provvedimento cautelare spicca il cittadino egiziano Nadir Fati Amna, che risulta irreperibile proprio dal giorno del citato duplice omicidio. Da Roma per MNews.it Luigi Palamara Grazie a tutti. Grazie a tutti.